La Befana non porta solo carbone ma anche tanta gioia e soprattutto solidarietà. Due visite speciali hanno aglietato la mattinata in occasione dell'epifania per i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria del Policlinico di Modena, i quali hanno ricevuto doni e calze. I primi ad arrivare sono stati vigili del fuoco del Comando Provinciale di Modena, che si sono presentati con i propri mezzi di soccorso di fronte all'ospedale, per poi raggiungere il settimo piano e consegnare ai piccoli degenti tante sorprese. La Befana è arrivata in reparto, abbiamo un Babbo Natale sull'autoscala che si affaccia alle finestre delle degenze e abbiamo portato con un carrellino a forma di autopompa per le varie stanze della pediatria, alcuni album da colorare e i colori a tutti i bambini presenti qui per portare loro anche un sorriso, la nostra vicinanza in questo giorno che chiude le festività. Poi è stata la volta dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, con i membri della sede di Castelfranco Emilia, che ha donato assieme alla Befana le tradizionali calze, oltre alla donazione di un'assegnone di 800 euro, offerte libere raccolte insieme alla compagnia teatrale Anna Di Stasio. Ormai sono un po' di anni, oltre dieci, che facciamo questa ricorrenza, si sono stati bloccati a causa pandemia, purtroppo non solo noi ma tante altre attività. Grazie agli amici della compagnia teatrale ogni anno facciamo uno barra due spettacoli, raccogliamo un po' di soldi per donare a delle belle iniziative, in questo caso lo dedichiamo qui alla pediatria. Siamo venuti non da soli ma con la Befana, come avete potuto vedere, e la Befana ha portato tanti donne. È un momento di gioia prima per noi e poi spero anche per loro, dopo aver visto la Befana e i doni, regalare un sorriso a questi ragazzi, bambini, che purtroppo in questo momento sono in una condizione anche di sofferenza. E noi è un modo di poterli stare un po' vicini. La Befana quindi non porta solo carbone ma porta anche tanta gioia. Sì, soprattutto il carbone loro non lo meritano, ma meritano gioia, consolazione e vedere nei loro occhi quella luce che sembrava un po' spenta.